Salusa 11 maggio 2012. Molte cose stanno accadendo, ma non sempre siamo liberi di parlarne dettagliatamente, di basti sapere che tutto è sotto controllo, e che i nostri alleati stanno per iniziare una serie di azioni, che mostreranno a tutti, che facciamo sul serio. Non intendiamo più tollerare i continui intralci, e ci occuperemo rapidamente di chi si comporta in tal modo. Ci sono numerosi alleati fidati, pronti a rilasciare le informazioni, che chiariranno le nostre intenzioni, inoltre, tra breve faremo la nostra parte, spiegando i fatti avvenuti direttamente al pubblico. Stiamo parlando in termini di settimane, non di mesi, entro cui avranno gli arresti in massa. Comunque, si tratta di un'operazione di tale portata da non poter iniziare fino a quando tutte le pedine non saranno al loro posto. Giunti a questo punto, desideriamo che tutto si svolga con la massima facilità e un minimo di inconvenienti. I nostri velivoli stanno attentamente monitorando quanto avviene in numerosi paesi, che potenzialmente dispongono di materiale nucleare, avvertendoli che ne impediremo l'uso. Le guerre hanno avvantaggiato soprattutto l'industria bellica, i cui responsabili sono privi di scrupoli e pronti a fornire armi ed equipaggiamenti a qualsiasi parte coinvolta nel conflitto. Essi dovranno rispondere del loro coinvolgimento nei conflitti, come pure i membri delle forze armate, colpevoli di crimini contro le persone. Sono state commesse molte atrocità di cui non siete informati, ma la verità non può essere più a lungo nascosta. Non appena i media cominceranno a riferire degli arresti già in corso, comprendenti molti personaggi pubblici di rilievo, se ne reclamerà il castigo. Vi chiediamo, tuttavia, di non dare libero corso alle emotività, pur garantendovi che giustizia sarà fatta. Contrariamente al passato, nessuno sarà in grado di ingannare la giustizia o di comprare una scappatoia. Avrete molto da rallegrarvi nel prossimo futuro, man mano che comprendete di essere liberi dal gioco degli oscuri. Con il cambio di governi, ci saranno altre sorprese in serbo per voi, mentre chi rappresenta la luce assumerà posizioni di potere e autorità. Nel governo degli Stati Uniti, il presidente Barack Obama sarà tra coloro che rimarranno perché, come abbiamo sottolineato molte volte, si tratta di una grande anima di luce. Egli sta già collaborando con i nostri alleati affinché la cabala sia costretta a rispondere dei suoi crimini. Le rivelazioni sballorditive si susseguiranno una dopo l'altra, e l'intero piano per la vostra liberazione, sarà perfettamente chiaro. Riacquisterete i vostri diritti sovrani e noi della Federazione Galattica prenderemo parte a tutti i cambiamenti per garantire che siano legali e giusti. Ovunque nel mondo, i vostri diritti sono stati progressivamente erosi, spesso sostituiti con leggi draconiane. Tutto ciò sarà modificato e i popoli della Terra, ancora una volta, saranno riunificati. Avete in comune molto di più di quanto credete, e religione e politica mai più vi divideranno. Si tratta di questioni, che dovranno essere risolte affinché in futuro tutto si basi soltanto sulla verità, l'equità e la voglia di rappresentare i desideri del popolo. Il nostro messaggio per voi è di mantenere la calma, ignorando i tentativi di chi cercherà di presentare in modo errato gli eventi, che man mano si presenteranno. Alcuni tenteranno deliberatamente di seminare il panico, mentre chi era ignaro di tutto, sarà alquanto confuso. Non di meno, attraverso varie fonti, in particolare Internet, faremo in modo, che le informazioni vi siano facilmente disponibili. Presto sarete testimoni del più grande spettacolo mai verificatosi nel vostro tempo, e allora comprenderete con quanta cura i nostri piani sono stati preparati. La storia sta per essere scritta come mai finora per portata e grandiosità, mettendo allo scoperto chi ha illegalmente e idolosamente controllato la vostra esistenza. Poiché molti di voi sono ben avviati sul sentiero della luce, contiamo su di loro per diffondere calma e comprensione, fin quando potremo rivolgerci a voi direttamente. Alla fine del percorso, troverete quello che definireste l'uovo d'oro, che racchiude tutte le promesse di una nuova vita, che sia veramente impregnata di luce e amore. Una volta avvenuto, ben poco somiglierà a quanto state ora sperimentando, perché avrete raggiunto un nuovo livello, che vi darà tutto quanto finora vi fu negato. Scoprirete poteri, che finora in molti di voi sono stati solo rattenti, e che vi accompagneranno nei livelli di coscienza superiori. In tutto quello che sta accadendo, questo è il cambiamento più importante, perché fa parte della vostra preparazione per l'ascensione. Guardando indietro a qualche anno fa, riteniamo che molti di voi siano pronti ad ammettere di esser veramente passati a un altro livello di coscienza, pur non essendo mai stati spronati ad ammettere che siete capaci di innalzarvi, al contrario, siete stati tenuti nell'ignoranza per tantissimi anni. Carissimi, preparatevi ai cambiamenti, sapendo che qualsiasi inconveniente sarà di breve durata. Ci saranno situazioni diverse da una zona all'altra, da un paese all'altro, ma nell'insieme supererete i momenti difficili. È ragionevole prepararsi in caso di temporanea mancanza di cibo o altri beni essenziali, ma non dovete lasciarvi prendere dal panico perché noi e i nostri alleati abbiamo previsto ogni eventualità. Insieme, riporteremo tutto alla normalità quanto più rapidamente possibile. La cosa più importante è di tenervi bene informati e contiamo di essere in grado di creare in breve tempo, un sistema di comunicazioni affidabile. Essere avvertiti significa essere preparati, e avete tempo sufficiente per riflettere seriamente a come far fronte ai problemi che vi riguardano direttamente. Avete aspettato a lungo d'arrivare a questo punto della vostra esistenza e ci rendiamo conto che, fin quando non avrete una prova tangibile di quanto sta per accadere, comprensibilmente restate prudenti. Vi sembrerà tutto inventato e senza dubbio incredibile, quando verrete a sapere di tutti gli arresti che stanno avvenendo. Non possiamo lasciare al loro posto nessuno degli oscuri, che possa interferire nel nostro lavoro e dobbiamo assolutamente bloccare i loro piani, perché sappiamo che stanno ancora progettando atrocità allo scopo di terrorizzarvi. Non preoccupatevi, già che conosciamo perfettamente i loro schemi e non permetteremo loro di attaccarvi la nostra tecnologia è fin troppo avanzata perché possano riuscire i tentativi di raggirarla. Io sono il Siriano Salusa e spero di avervi tranquillizzato, perché desideriamo che possiate godervi i cambiamenti, puntando lo sguardo sui risultati. Assisterete alla caduta definitiva del potere che le tenebre esercitavano su di voi. Grazie, Salusa. Mike Quinsey Traduzione Costanza 2003